io avevo già il diritto vivere a matare l'estero accicchiato io mi chiamo a seguitare via vieni vieni che non tocco a vivere la vita con lui la faccio il giovane lì dove si va? guarda il giovane romano e il giovane lì e la metà poterloci non tocco a vivere non tocco a vivere non tocco a vivere non tocco a vivere men non lascia di là allaburga e poi ti chiamiamo prima di parlare e poi ti chiamiamo in generale adesso è un po' di Giovanni è un po' di Giovanni due è qua e due è qua due è qua e due è qua due è qua e due è qua noi potremmo fare acquistare ma non chiamare prima per ripetare la cucchiaino a nudo capisci? capisci? 36 è il venino 19 49 148 37 141 volevo 2 36 voglio fare il giusto di 24 che ci ha dato però io se ci siamo a proposito a mila Giovanni, il portazio è due a 500 2,500 a chi ha? a chi ha percibendo io Giovanni ora salvo una bavuta, tutto il resto di uova, una bottiglia, un bicchiere, un'aria lì e non c'è mai lì e qua, frutta Giovanni e qua c'è una madre Giovanni vogliamo ora chiudare c'è il coraggio, una cunce, una cuncia, un'aria lì è il coraggio, no c'è lì abito... arraccia a me e... e bevono bruno di tu lato mi agiusi? e' un altro, non diri che tu a me ha no a me ha gi atto con ballerina a me ah certo ora un piede no ove di cannela canola a me e' un bambino a me come èfu se mi parla io a te pego non so ecco a me mi piace cunata e' un cunata è bene è bene tu sei io sono un'arghetta però non hai mai non hai la squadra non hai mai mai io non so puoi fare qualcosa tu puoi? tu mi hai mai mai tu puoi fare qualcosa io volevo fare qualcosa si è un buono, si è un uomo si è un uomo si è un uomo lei è che vucero amare è vero è vero i vuti se vede giù in che c'è un uomo i vuti, ce la sentono 10 i vuti 20 20, 30, 39, 40, 30 40, 1, 2, grazie grazie ho fatto io, grazie io ho preso tu stai a montare due due 40, sono tanto stato uomo 40, sono tanto stato uomo 40, 40, 20 20, 20 ma quando vuoi non c'è un segnario non c'è un segnario ma non toccano tutti ma non c'è un avivio con l'avivio non c'è un avivio stiamo lavorando a cagliare certo, stavo a vedere sotto facciamo il tamborello e poi sono a giocare tamborello quando noi ci vaiamo ti tocca io sono duriti le rive la metà è dove sta al cucchiare io mi chiamo meno le rive vabbè voi che ti rive è un carino è un carino è un carino non c'è 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 un carino è un carino Mi chiami, cosa? Pariur uno in mezzo. In mezzo! Un poco si no. E' proprio un po' che mi ammigiano. Grazie. a me 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 33 38 a me a me a me a me 6 a me a me a me a me per chi era una via in via quando non c'era male quando la scarpano la scarpura non è vero lo scuolo si ma quanto è tutto? da lucio non è stato il mio e faccio sotto la faccia maggiore e poi c'è una faccia grazia la bellezza mi scherzo il mio condito la vogliamo che ho fatto? mangiamo ora? che è tardo? io non ci sono le gambe a sapere sotto le gambe facciamo le gambe facciamo le gambe si è venuto a basciare a mare non ho fatto un giro non devo dire solo una cosa